Nuovo video di Roblox, siamo tornati nella torre delle eliminazioni e c'è di nuovo sasso, quindi raga, siamo tutti contro sasso Siamo tutti spacciati raga, io ve lo dico, o lo facciamo fuori o ci fa fuori, bisogna prendere dei provvedimenti A me mi farà fuori subito ragazzi Come sempre, siamo con i consolini, tramite il nostro gruppo abbiamo fatto le partite Oh mamma mia Oh mamma mia, oh mamma mia cado Uh, The Bark è andato Attenzione, anche io Ce l'ho fatta, ok Ah, è vero No Il mio vantaggio, il mio vantaggio, The Bark, tirato dritto ancora Anch'io, anch'io ci sono, ci sono No, sono caduto giù, al parkour Ci sono No, ancora No, al parkour Ah, il parkour io non lo sopporto con un sacco di persone Raga, ho sasso dietro No, 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 no Dai, Steph, ce la devi fare, Steph Devi vincere stavolta No, sono caduta da stavola, ma dimmi te Non fate vincere, Saskia Sono caduto, è impossibile, è impossibile sta cosa Ogni volta a me crea un sacco di problemi Ma scusa, mi sa se è passato? No, è caduto Però sono caduto di nuovo anche io No, Steph, non dirmelo così Ok, io ce la sto facendo Non è impossibile, Steph È molto semplice in realtà È semplice, ma Ho finito Ho finito la mappa Ho finito la mappa Oh mio Dio, te l'ho detto che era molto semplice Ho visto la porta, ho detto Ma sarà la fine Ho finito davvero Vota, sas Vota, sas Che persona che ridi Che bello Allora, secondo voi Chi è che è andato peggio nel parkour? Non lo so Io non ho mai Io ero davanti a sas Però io voterei gente brava, piuttosto Io non ho mai fatto la votazione preliminare Quindi un po' mi dispiace, capisci? Allora, devi giocarti la strategica Devi cercare concorrenti che possono batterlo a sas Quindi devi mettere sas Con swamp Ma povero, però poi mi vota la prossima E Flash Allora, sas Eh no, però Flash ti sta ricattando Quindi devi mettere swamp e Martin Cos'ha detto, scusami? È che lui non ti ha scelto Aia E quindi ti sta facendo pesare È Martin Pazienza, non me ne frega nulla Oh, qualcuno va scelto, raga È che ci devo Cosa devo fare? Solo devo scegliere voi Non è che c'è molta scelta Aspetta, perché potrebbe essere da quattro, Ferre Ah, da quattro? No, 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 da tre Ah, no? Ok, meno male, meno male Perché siamo tanti questa volta, eh Sì, però Ok, ci siamo E piccolo PS Abbiamo iniziato con un round già avviato Perché il primo round era di nuovo sulle palle di neve Ed è abbastanza annoioso Quindi avevo detto Lo saltiamo direttamente e andiamo a dritti Mentre, perché si chiede come unirvi Anche io ho fatto uno Come unirvi nelle partite di questi casi Quindi quando giochiamo assieme a voi Tramite il nostro gruppo Lo trovate in descrizione Quindi dovete andare su TipocPlays Come gruppo Tipoc Vi unite Tipoc e basta Non c'è play Mi sa proprio di sì Però l'ho trovata in descrizione L'ho trovata in descrizione Oh, questa è nuova, Steph Questa è nuova Questa è mia Se perdoni l'istante L'istante Ah no, ma io non posso giocare È vero Non possiamo giocare Ero convinto di dover giocare Che sembra bella Vediamo, vediamo Su chi scommettete ragazzi Ma sapete che non ho capito Cosa devono fare però Vediamo, vediamo Guardiamo Però secondo me Sass batte tutti raga Non basta nominarlo Anche secondo me Penso che debbano Spam cliccare tipo l'auto Per farla muovere No ragazzi Vi spiego Forse ho capito Secondo me c'era un puzzle da fare Chi rimaneva nell'acqua Veniva sparato fuori dalla rampa Perché perdeva Esatto Guardate Quindi comunque Sass è stato lo stesso Il migliore raga Il migliore È incredibile È stato come il gioco Dei treni Di me e Mark Ti ricordi che tu non vedevi È la stessa cosa Quindi loro stavano facendo qualcosa Sì ma l'informazione assurda Che abbiamo È che Sass è stato il più veloce Perché è stata la prima auto A sparire Raga è imbattibile È imbattibile Speed skating Questo me lo sento Così a caso Non lo so Questo minigioco è bello Ok Ok Dovemo prendere i punti Con la roba azzurro No 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 Non hai capito Non ti dirò mai come funziona Ormai siamo tutti rivali In questo round Io ho capito Anche io Devo passare in mezzo all'uno Ah ma si slitta un sacco Esatto Devi passare in mezzo ai numeri Ah ma devi passare in mezzo Esatto Ok Raga ma è orribile Io pensavo Si slitta Perché Mark non capisco mai nulla No io sto capendo Ma non capisco perché Cioè Dov'è il 3 Non è divertente Ecco È questo senso Lì giù Eh no che non lo è Però che ci possiamo fare Vabbè ma sa se è già il 5 Raga Ah ma No ragazzi Arrivo ultimo Come arrivi ultimo Pensavo fosse a somme di punti Ma cosa stai pensando Ma te l'abbiamo detto Che devi entrare in ordine Raga ma perché perdete tempo A spiegargli ancora le cose Ma ce l'ho scritto anche all'inizio poi Non è che ti fici Ragazzi Con i mini giochi stupidi Non ci arrivo Io scusate È l'innotato Vabbè dai Ma è il meno stupido questo qua Ma no Non ha senso passare in mezzo Così dei cartelli Beh perché poi Scivolire è solo fastidioso Levatevi Mi hanno spinto Mi hanno spinto fuori da questi Non ci credo Ok A che numero siete Esatto Io sono al 10 Io sono all'8 Marci sei al 12 Guarda che sei più avanti di Sass Forza Marci Sì sì 13 Dov'è il 13 raga Ecco l'8 Non trovo il 13 Lui è ancora all'11 Non trovo il 13 E comunque ci ha recuperato Fere eh Eeeh Che bulla Cioè 14 Parliamone 8 Ok Non trovo il 15 raga Non trovo il 15 È qui al centro Marci A fianco a te Girati Aiuto Non lo vedo il 15 Eccolo qua Ce l'hai a fianco Forza Marci Vincermelo tu Ho superato Fere No siamo uguali Sono anche io all'11 Ho vinto No Ho vinto Marci Ho vinto Marci Raga la mappa comunque era rotta Infatti Sass se ne approfittava Non bisognava passare dentro Non bisognava passare dentro Esatto Io me ne sono accorto a metà Io li ho fatti tutti passando al centro eh Allora io scelgo BriefDev Ok Ma povero Con i balli di Fortnite Poi scelgo Non l'hai votato eh Scelgo Sass Ma povero di nuovo Sass dice di no Sass dice di no Lo stavo distruggendo Povero Sass Scelgo Marco Ma c'hai Flash 40-23 Deve essere brava a chiedarlo eh 12-49 Però c'ha il 23 lui Tu non ce l'hai il 23 Eh ragazzi E' andata così Che cattivi che siamo ragazzi eh Mi scuso Dovranno fare questi tre campioncini Ah Prince Sky Ok Ok questo è bello Allora In questo comunque Sass era veloce Aveva vinto Steph Però Sass Dello stesso era velocissimo Quindi comunque Poi dai Non è troppo difficile Come mini gioco Ha scritto Ah facile Chi Oh Breeder Lui è pronto Ah beh sì Rispetto ad altri mini giochi È facile questo Ok Guardate Li fa tutti Li fa tutti in ordine Io non capisco il senso Logico Li fa in ordine numerico Steph Prima gli uno Poi i due Poi i tre Poi i quattro Poi i cinque Ha fatto Ha vinto Attenzione Però Flash è in vantaggio Super il tempo È un pro di Roblox Eh già Attenzione Oh sono vicini Sono vicini Ha vinto Flash No 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 Andata così Per niente No No Poi in basso sinistro Ha sbagliato quello in basso a sinistra Ha scritto due Sì Sì Guarda come cade Ciao Flash Ciao Flash È stato un piacere Plac Questo mi piace Allora Ferre ricordati che qui eri ad un punto da lui Eh chissà Chissà oggi Non rubiamoci di tra di noi eh Mi raccomando Rubiamole solo agli altri ragazzi Ben organizzati Ricordo che nell'altro video Ferre mi ha rubato tutto quanto Ma non è vero Non è che ti ho visto No Era stato massimo E' per amarci che rubava le cose Ma guarda Ho le registrazioni Guarda ho le registrazioni C'è anche l'altrigger Verso Hai le registrazioni No sto caduta da sola Sì ho tutta la registrazione Esatto Ok Quanto male il giallo ragazzi Vuole di più il giallo vero? Non lo so ragazzi Non mi ricordo neanche io Secondo me è tipo il rosso Non bisogna prenderlo no? No boh No secondo me si prende tutto ragazzi Semplicemente ne danno più o meno Eh purtroppo sono in un punto In cui ce ne sono davvero pochi Oggi mi andrà male sicuro Il blu vale tre Ok Ah ragazzi il rosso vale meno uno Non un più uno No è un più uno È un più uno L'ho appena preso Più uno più uno più uno Raga mi è andata male Eh io purtroppo ero in un punto In cui non c'era niente Quindi ora sto recuperando però Sì c'erano veramente pochi Sì Vediamo Ne ho appena rubato una stas ragazzi Ma io sono andato Probabilmente peggio di tutti No sono malissimo Stef Non c'è chance per me Io so provo ad andare verso il verde Non ce ne erano Comunque quello che dà più punti È il blu Ah non ne trovo più Non lo so ragazzi come sono andata Non ho un'idea Penso malino Io un po' li ho trovati raga Non lo so Non sponava nulla Attenzione guardate sas Eccolo qua Eh però dai io non sono andata così male 35 Secondo io Ora ci vota Mark pari punteggio Io e te Vediamo Poi lui fa le finte Quindi adesso No va tutto Marci Non lo preme Guarda guarda Che finte che fa E' pure i blef E' andato sui due Su cui aveva odio E guarda Adesso me Sicuro No a me Se la prende con noi Stef 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 Marci No E' Swampert Mi odia proprio No butta me Butta me E' una roba Agghiacciante Veloce Che non abbiamo 50 anni A cliccare uno Ha votato me Vabbè Si è mostrato da una parte e ha cliccato dall'altra Non capisci neanche chi vota Che cattiveria ragazzi Ragazzi Fa paura Ha metto la chance di sopravvivere entrambi Forza No 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 Ma di nuovo Ma perché No raga Lobby no Lobby no Io perdo Marca addio Addio ragazzi Sono molto bello No figlio ti perdo io Marco non perdo Ma dai ma smettila Non è vero Allora io vi voglio osservare Vediamo Allora Vediamo Mark Dai No io sto su Marci C'ho l'ansia che fermi Mi spetta Marci è nato Dai Mark L'hai già fatto Quindi lo sai fare Le tue mani si ricordano Come si faceva Su Perché mi fa cadere lì Devo cadere in te Dai Mark No raga è difficilissimo Aia Raga Bridev lo sta finendo Vi prego Bridev ce l'ha fatto Sono morto io No Ha finito Mark Vabbè si sono finito Premi il bottone Premi il bottone Non me lo fa premere Mark c'è uno è verde e uno è rosso Ma dov'è il tuo cervello Il bottone è rosso Devi premere Te lo sta dicendo anche Bridev Ma che problemi hai Che sbarco No Mark Non è sempre così raga Ma non si può Stef non lo so Un'altra volta ho premuto Una è verde e una è rosso Cosa dovrò prendere Ma non so Magari io penso La matte matta la casa Le meritava Mark Guarda ringrazio che non lo fate Io sta mappa Io ti picchio Avrei rilevato la tua idiozia Ti avrei fatto morire a te Guarda Allora qui mi ricordo Che Sass mi ha brutalmente ucciso Eh Rispetto Quindi Non mi stupisce Devo stare lontana da lui Allora Non so neanche qual è Sass In questo caso Neanch'io Cos'è questo raga No Il pavimento sparisce Vorresti dirmi No So caduta Raga Che faccio schifo In ste robe Adesso Raga non fate vincere Sass Vi prego Stef ti prego Vinci tu È la nostra unica speranza Io sono su Stef raga C'è Marco che è dietro Stef Lo sta seguendo Non capisco Non risponda no No Stef Non sei risponati Ma non è possibile No ha vinto Sass Ma secondo me ci vive Dentro sta mappa Sass Si accadisce sempre contro di me Guardalo Vabbè forse ti odia Vabbè però su di te lo farei anche io Forse ti odia È quello il problema Adesso vuolta me No vabbè c'è l'unica cosa giusta Che fa Sass Almeno diamo a Cesare Ciò che è di Cesare Boh Diamo a Sass Diamo a Sass Ciò che è di Sass Diamogli un bel computer Sass mi mette Guarda più ansia Sass nella vita Mi do il mio computer Se fa bene Ecco qua Sì perché poi non rivolta gli stessi Eh ma se vota anche a me ragazzi È tosta eh Io spero che No Ok 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 Potete sopravvivere entrambi ragazzi Ci sta Ci sta Waterpark Cosa dobbiamo fare adesso Ok È un wipe out Tipo raga No No Io sono morta Allora Allora completa questo Ah Tutte le volte che puoi È 90 secondi Ok 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 Vai Marco Marco sei tutti noi Vabbè Ferre non è partita Non parto Mi è molta ansia Pensavo non ti funzionasse Ragazzi DeMarc DeMarc No devi risalire tutto Ma che sono matti Ok DeMarc mi ha fatto uno Un punto Vai Ferre continua Ricordati che sei contro Bridev Non pensare a Mark Ok Eh non ce la faccio Steph Che concentrazione DeMarc A tempo Lo sai che faccio schifo Nelle cose a tempo Vai 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 Che hai fatto la piramide Ferre Concentrati Non pensare più a nulla Ma ragazzi Non posso più tornare indietro Sì C'è la scar Allora Ah devo tornare No No Porca miseria Steph è complicato Nessuno ha detto che è facile Io non posso fare gli hobby Preferi voi tre Niente raga Bridev è andato Ha fatto due punti Vabbè E allora poi l'altro è Mark Perché l'ha finito una volta ed esco io Beh però lui non la sta rifinendo Eh vabbè che c'entra Che se fai uno a uno è pareggio Beh non cambia niente Attenzione Ferre ha acceso il motorino La disperazione questa Steph Bello 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 Steph non chiamarla No 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 Butta fuori Mark Io me lo sento Vai Ferre riparti subito Ce l'hai 20 secondi ce la fai No Mark l'ha finita Ce la fai in 20 secondi Ferre Non ce la faccio Sì che ce la fai Lui è caduto Vai Ferre Non ce la faccio Sì che riesci Ah ce la fa Ce la fa Ce la fa Allora Ti rischio Vai Ce l'ha Eccolo Due Mamma mia ragazzi Che fortuna Ma guarda quando sto correndo Oh mio dio No Ce l'ho fatta Ma ragazzi Marco era al salto finale Perché dopo un po' prendi il ritmo Porca miseria Ma scusa ci elimina entrambi Entrambe vi elimina Come entrambi? Eh due morte abbiamo fatto Cioè due punti uguali Perché io che ho fatto due punti Hai eliminato Ferre Perché penso che Marco sia arrivato più verso la fine Eh a Ferre a me mancava tipo un centimetro per fare il terzo punto Sì ma non vale Eravamo due due Personalmente mi ha confuso questa cosa Cioè non aveva senso ragazzi Cioè almeno fai lo spareggio allora Butta fuori l'altro Vediamo Stef Bello questo Che cos'è? Non l'abbiamo mai visto? Allora Canestro credo Ok Boh vediamo ragazzi E come funzionerà il tiro Dobbiamo prendere T Dobbiamo premere T Per fare il canestro Ok Quindi devi prendere i palloni E andare a fare il canestro Stef Non lo so sotto il canestro Ragazzi dovete fare il canestro Non si capisce neanche se fa il canestro però Come si fa a fare il canestro? Come si fa a fare il canestro? Non so quando Stef Ma hai notato che il numero della tua maglia è 23? Ferre Eh sì Ancora non le capite come funziona? No ragazzi fare il canestro è veramente Incredibile Incredibile Ma io non penso di avermi fatto il canestro Ma neanche io Stef Ragazzi fate qualcosa Non lo so Chissà se si fa canestro Ragazzi davvero gioca Si piazza dritto Si piazza dritto Eh buongiorno Tassa si piazza drittissimo sulla linea E li fa tutti Eh ho capito come fare Secondo me anche Stef li sta facendo ora eh Si beh Se sparisce la palla Eh esatto Il fatto è che Ovviamente se provi le mappe poi Le cose le sai fare Ah beh Stef che cosa vuoi? Ci staranno persone che te la giocano Posso lamentarmi? Ma si potrà giocare la mappa quanto vuole? Se la vuoi giocare l'ottore al giorno Se la gioca l'ottore al giorno Facile fare il campioncino Giocatela anche il tuo ottore al giorno E vedi che vici Allora Io farei il campioncino su Fortnite Eh bravo facile È come ti fare il Barcellona nel calcio Ahia Dissing per chi ti fa Barcellona nel calcio? Ovvero io Non te l'aspettavi? No Ah ma perché Stef ti fa Ma Di cosa stiamo parlando raga? Ti fate per Per la partita di basche Stavo pensando ai colori delle magliette Sto impazzendo Aspetta Uh Quanti punti? Il Barcellona è Io ne ho fatto tanti Comunque ho recuperato bene Ne ha fatti tanti Si è andato bene Si Grazie Stef Putta fuori Sass Subisci Che cattiveria Che cattiveria Che Sass fa adesso Guarda Uh Ma è Swampert Vediamo Sass Sass non scrive niente Perché per lui Tanto fa Sì Sì Tanto lui Gli ne frega niente Lui ad occhi chiusi Finisce tutto Cosa gliene frega? Guarda mi sta salutando Ti saluta pure Speffeggia Che hai votato? Ne potevo votare solo due Perché siamo pochi Ho salvato Sass ragazzi Hai salvato Sass Ho salvato Sass Dai questo non è difficile Marco Io spero che Sass lo prenda come un gesto di amicizia Almeno così mi risparmia Esatto È quello dove sono uscito io Marco Ce la fai dai Però tu ce l'avevi fatta la volta scorsa Marco Dai questo è abbastanza easy Dovrebbe essere difficile Sì devi trovare solo le formine Ma Swampert Si era l'altro più veloce di me Raga Swampert secondo me tra yard and bot Non lo so Quel cerchio bravo Marco Bravo Marco Vai a consegnare Calma Vai vai perché lui sta aspettando che responi il tuo cerchio Quindi ha perso tempo Vai a prendere gli altri Ma non riesce a prenderli neanche lui vedete Ha il mio stesso problema secondo me No l'ha preso l'ha preso Ne ha presi due ne ha presi No ne ha preso uno No ne ha preso uno Ok Se due è uno sei Vai Marco Manca l'ultimo mi manca da passare No te mancano due Sono quattro in tutto Ok Ok vai Sei a tre Lui si è un po' intrippato Quindi sta andando bene Ah no ne ha preso un altro adesso Però tu sei a tre E lui ha due No è a uno Io lo vedo a uno Sì ma adesso due Adesso due infatti Mi manca uno ragazzi E ma sei dov'è A Stella Tu l'hai Marco Vai 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 ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ok 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 Ragazzi Stiamo rimasti in quattro Quindi il prossimo eliminato non va in finale Guarda secondo me lo trova Sass e ci va diretto Non so perché La scorsa volta l'aveva trotto qualcun altro C'ha i cheat ragazzi Lo dico io Al radar Per vedere dove sta loro Sì 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 C'ha l'X-ray Ok No lui sta già gli spawn a memoria Tutti i possibili spawn Sì 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 In base al tiro del vento Lui sa che Sì perché In determinati luoghi specifici Raga Lo sto aspettando eh Forza Sass Dai Guarda che schifoso No non Sass Stavo guardando Sass Ho letto Sass Ciao Non è possibile Sass non ha ancora trovato nulla eh E questa volta non stiamo trovando nessuno Comunque lui scava da sotto Sass Ecco perché va meglio Fa un buco e poi scava tutto da sotto Non scava da sopra Quindi Raga è per forza qua L'hai trovato Ecco l'ho trovato L'hai trovato Mark L'hai trovato Mark Se voti Sass Di Ubridev Io e te siamo in finale contro Sass Dai fate la finale E' una bella roba Fate la finale Sì Se vuoi fare l'infame Fai l'infame No fatevi la finale assieme Sì Sai che però Fede Qualcuno prima mi ha votato Vabbè ma però Qui c'è di mezzo la finale Marco Quindi secondo me Eh ma qua c'è di mezzo anche l'amicizia eh Prima mi sono stato tradito Io un pochino Però sei vivo dai Non lo so Ce l'hai fatta Hai superato le prove Ti voto Schifoso No schifoso no Ma va dai Si chiama lui il computer schifoso Sono due video che mi vota Tutti i round Sass Però è vero Mark ha ragione ad avere un po' di astio Steph O chiedimi scusa per tutto l'astio Che ha avuto Non succede da mai Chiedili scusa Steph Dai che vi fate la finale insieme Adesso ti do 5 secondi 5 Non farlo Steph 4 Steph che poi i tasti batti In una sfida 2 Non sfidare la sorte con lui 1 Vabbè E' andata così Ecco ecco li sto guardando Ok Vediamo Sassi sta sbagliando un po' il giro eh Si Sassi si sta confondendo un sacco Oh Bri sta andando bene Raga Bri lo finisce Bri lo finisce Raga forse perde Sassi Ha finito Ha finito Bri Ha finito Bri Incredibile Ve lo dicevo che Bri lo stava per finire De Mark ha eliminato Sassi indirettamente Non ci posso Raga il colpo di scena Sass che vola via No Sass Ciao Così impari a votarmi per due video interi Ciao Ciao Non potremmo mai registrare il terzo Altrimenti Mark finirà malissimo Il terzo video in questa mappa Non riuscirà mai Raga che colpo di scena Io non ci credo Allora ragazzi Tanto sapete già come funziona qui Quindi potete andare dritti Tanto sappiamo già che è tutto alla fine È quella torre finale Il resto non conta nulla Esatto Il resto ma anche le chiavi a fortuna In base a quella che trovi giusta e via Perché mi dice expecting ragazzi Aia No perché forse stavi guardando E ti sei pagato Levalo Tolto 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 Ok Taratara Potrei aspettare Steph Vedere che chiave usa Vabbè è comodo Allora ragazzi Il parkour è semplice È solo la torre finale il casino Il resto è già abbastanza semplice Perché la torre finale si stringe Quindi tu non puoi prendere il ritmo Ed è difficile Perché poi comunque gira Ti spezza molto il ritmo È la parte È la parte peggiore Il resto anche se lo sbagli Ci prendi il ritmo veloce Vedremo Ricordatevi che anche Sass Ha fallito lì Ah esatto E se fallisce Sass Chi sarà il campione Vedremo Comunque Sono stati limitati Allo stesso livello di Sass Vi farei notare Sì è vero È vero Quindi è un livello Anticampioncini quello Allora Forza Steph Per me Steph l'ha trovato Tipo al terzo colpo Vediamo Due No Tre No Ha il quinto Mi stanno andando abbastanza male Dai Steph Stai finendo le chiavi Porca miseria Nessuno è uscito Oh Steph L'ultima L'ultima Però sono stato il più veloce Cioè Tutti l'ultima Ok Vai Questo è semplice Ma qual è È la rosa È sempre l'ultimo allora Ok È la rosa da tutti mi pare Anche quella di Steph Era la rosa Oh È morto Corri Steph Corri 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 Concentrato qui Steph Eh oh Mi devo abituare Prefisco failarli all'inizio Fare Forza Ok Tanto non conta nulla Salire all'inizio Perché dopo è difficile Esatto Questa parte l'ho fatta anche io E dopo che poi ci caschi Perché ti frega Ma tu eri arrivato un sacco in alto Fede se ti ricordi Sì 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 Uh Occhio Però vedete questa parte complicatissima Mamma mia Steph manca pochissimo Eh Guarda Guarda Mi sta mettendo raga Un'ansia Non ce la faccio Regà non mi dice nessuno Io ve lo dico È veramente difficile Sì 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 Ma se tipo saldi e basta E lasci che si giri Ma bricio Ti sposti Aiuto Che il bodyblock per Marco No mi dà fastidio Cioè vedo Mamma mia che difficoltà Steph Lo so Ma è follia sta roba Cioè quando salta il personaggio Ti va lì indietro Con calma Steph Riposizionati prima di fare ogni salto Mi sta girando la testa Mi sta girando la testa Lo so Calmati però Non sbagliare oria Silenzio raga silenzio Esatto Non voglio l'intrattenimento in questo pezzo Tutti zitti No 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 Steph Perché c'è la piattaforma che mi nasconde Ok No ragazzi Sì ragazzi Ce l'ho fatta Grande Steph Quella roba è difficilissima Stavo morendo solo a vederla E' terribile Cioè a vederla è più semplice Che a farla Mamma mia Ma si capiva è un casino incredibile Adesso la premiazione Il nostro nuovo campioncino Dai bello te lo sei vinto tu Stef ha vinto Stef ha vinto Sentite la voce di Mark Bravo Stef Arrabbiato perché c'era quel coso di mezzo Perché sei un bidone Comunque era più in alto Ah no sta continuando lui Lo vedete che sta continuando Perché? Ok vabbè ci sta Non ho capito In chat chiedono se potresti arruginare il po Ok Dopo aver vinto questa cosa possiamo far qualsiasi roba Esatto Comunque ragazzi ci fermiamo così Questa mappa è sempre divertentissima da giocare Sotto con poi altri video iscrivetevi al canale Campellina E ci vediamo nel prossimo video Ciao 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 ciao